Salve a tutti, Simona, c'è anche la fascia per me, l'avete preparata? Tipo? Non lo so, mica mi lascerai sfasciata tutta la sera. No, ma certo, Miss Italia. No, facciamo, mi stupisco della bellezza della mia squadra. Oh, bella, bellissima, brava, brava. Guardale che meraviglia. In effetti, in caso ha voluto che tu avessi veramente uno squadrone, non che gli altri siano bellissime, ma questo è veramente... Direi che è il Barcellona di Miss Italia. Capito? State buoni, perché qui adesso vi faccio vedere la squadra dove verrà pescata Miss Italia. Allora, cominciamo con la numero 23, ha 19 anni, viene dalla Liguria e si chiama Chiara Barbaro. Le curve di Miss Italia che irà Liguria, Chiara Barbaro, numero 23. Lei ha 20 anni, viene dal Friuli Venezia Giulia e si chiama Ahlam El Prinis. Numero 24, Ahlam El Prinis, Miss Eleganza, Gioves Vimpop, Friuli Venezia Giulia. Lei di anni ne ha 18, viene dal Veneto e risponde al nome di Letizia Moschina. Numero 25, Letizia Moschina, Miss Compagnia della Bellezza Veneto. E lei di anni ne ha 20, viene dalla Campania, è Vincenza Botti. Vincenza Botti. Numero 26, le curve di Miss Italia che irà a Campania. La bellezza dalla Basilicata, 22 anni, lei è Laura Narciso. Laura Narciso, Miss Portolotto, Basilicata. È Marchigiana, è 18enne, è Valeria Valentini. Numero 28, Valeria Valentini, Miss Equilibria Marche. La numero 29, viene dal Veneto, ha 18 anni, è Alessia Rigo. Miss Veneto, numero 29, Alessia Rigo. Numero 30, dall'Umbria, 20 anni, Claudia Casciani. Claudia Casciani, numero 30, Miss Rocchetta, bellezza Umbria. La numero 31, viene dalla Lombardia, ha 25 anni, è Viola Martina Porta. Numero 31, Viola Martina Porta, Miss Esportolotto, Lombardia. Eccola la Sicilia, è il numero 32, 18 anni, Lorena Grisafi. Numero 32, Lorena Grisafi, Miss Piluna Sicilia. Ed è l'ultima, la numero 33, dalla Campania, 25 anni, Noemi Bosco. 33, Noemi Bosco, Miss Boconella, Campania. Benjamin Bosco, Missinginale, Ciao!